Tyrantu ti prego, continua, Silent Hill Kingfield 3 goes boom Ma questo è il gioco dell'altra volta, scusatemi Ma qua mi stanno truffando ragazzi Ma è letteralmente la scena dell'altra volta Kingfield Eh? Ma io ho comprato Kingfield 3 E invece mi hanno dato Kingfield 2 Ma si chiama Kingfield Eh sì, controlla pure la memory card Però controlla pure il fatto che abbiamo sbagliato gioco Ma questo è il tipo dell'altra volta Ma che cazzo dici? Farà questo Kingfield 2? Secondo me sì Perché le colonne formano il 2 In romano Ah oh Neanche in latino Proprio in romano di Roma Data loading, please wait Scusate ragazzi per la figura di merda Ma tanto questo video non lo guarderà nessuno E quindi E quindi Nel senso Così Così iniziamo ragazzi Così Bello Su Minecraft E questo era Kingfield 2 Quello vero ragazzi Io spero che il video vi sia piaciuto Eeeh Vabbè Non scherziamo a sto giro Eh Era una gag Molto speedrun a sto giro Sto giro veramente veloce Ha preso l'anti diazepam Corre tutto Abbiamo il Parkinson Ha un fonte terribile Ma abbiamo una daga Vediamo se ci sono I piedi Eccoli qua Hazna 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 Ehi... ...e questo bambino... ... č se... ...qu'è... ...ICUIT WARD? ...che stai domando? ...te merah... ...qu'è un sogno che non ti senti? ...Po' da un Kum... ...come... ...te... ...che stai... ...d'imitato in mezzo! ...vallate la mano! ...vvvvvvvvv... ...intentate il sogno! Dove? Dove? Questa città è dove? C'è il quale? C'è il quale! C'è il quale? C'è il quale! C'è il quale? C'è il quale? Oh! C'è il quale? Oh mio Dio! Scinda! Oh! C'è il quale? C'è il quale? C'è il quale? Ah! C'è il quale? Scinda? Ah! Ah! Toste! Nana? Nana! Oh! Ah chi? Nani corre! Squid Wado! The big one! Boro! Ah! Ah 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 ah! Cefone! Porca puttana! Maho! Ma secondo me... M'è Modoro tua madre? Ma secondo me c'è un... un filmato introduttivo cd o nuite e non ce l'ho il cd e non ce l'ho il cd perché l'ho comprato in digitale ragazzi e no non c'è scritto mica la polizia sta venendo a prenderti là sotto ma no ma secondo voi no no oh shit c'è bloccato tutto porca puttana via 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 ma non c'è un intro non c'è nulla proprio di piazza di violenza che cazzo è una oh oh non abbiamo armi ci sono 2000 squidward che vogliono ucciderci ma con triangolo si usa la spada ma robe da matti ma robe da matti kaihoni oh guy non lo so leggere scusatemi ragazzi ah squidward ehi squidward figlio di puttana oh la madonna però fortissimo porca puttana ecco dai forse come nel 3 li dobbiamo beccare da dietro come potete ben vedere da dietro è una questione molto più semplice nanimo attenai oi oi perché madonna no che lì schiattiamo male porca vacca squidward ti prego stop please please don't dai il piano di questo episodio è almeno sconfiggere un nemico uno e poi siamo finalmente persone che vincono nella vita perché siamo riusciti a sconfiggere un nemico di kingfield 2 quello vero non come quello dello scorso episodio perché già sono dei giochi di merda in più sono confusionari questo chi cazzo è morto con un sasso gli hanno tirato un sasso in testa giustamente è morto non oso leggere sono fallito ah ok era tipo guardia di di vardite perché badaito giustamente è figlio di puttana bastardo animale questo chi è oh forse dobbiamo mettere il figlio di puttana qua dentro oh oh l'intelligenza suprema zukao non lo possiamo usare qui quindi niente intelligenza suprema signori siamo veramente stupidi però finalmente possiamo salvare che ormai è tradizione in questa lunghissima serie di videogiochi di kingfield intrattenimento incredibile che state subendo spero siate felici delle vostre scelte delle vostre perdite di tempo perché potevate fare altro ma invece state guardando questo video mi spiace veramente veramente tanto ma sinceramente non me ne fotte un cazzo eccolo il melone oh la madonna si ma nel senso un uno contro uno non c'è eh dodici contro uno è questa la mia vita ormai figli di puttana voi bastardi coccomeli di merda ma mi hanno pure avvelenato ma basta pezzo di merda muori o muoio io o muori tu muoio io e questo era kingfield 2 quello vero non come kingfield iii con 3 i ma kingfield iii quello con 2 i ho capito ma mi sono oh un attimo basta stacca stacca tutto basta li stanno tracciando siamo morti ciao signori porca puttana se è difficile stacca 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 Grazie.